Dopo i tesseramenti di Ucci e Munic arriva la prima importante conferma nel roster che coach Di Tommaso dovrà guidare nel campionato di Serie C Gold. Il serbo Dusan Ranitovic infatti vestirà ancora il rosso-nero dell'Unibasket. La forte ala classe 95, 204 cm per 95 kg e punto fermo dell'Unibasket dall'ottobre 2018 rivelandosi uno degli elementi più talentuosi a disposizione di coach Cora offrendo fin da subito il suo fondamentale contributo alla vittoria della regular season. Nella sua prima stagione a Lanciano ha messo insieme 646 minuti e 377 punti distinguendosi per il suo straordinario atletismo e per canestri spettacolari. Giocatore dai mezzi fisici e tecnici dunque importanti anche nell'annata trascorsa Ranitovic si è dimostrato uno dei punti di forza dei rosso-neri scendendo sul parquet in 15 occasioni segnando 232 punti la media di 15,47 a partita catturando ben 176 rimanzi. Ranitovic ha deciso di sposare ancora il progetto Unibasket rifiutando diverse offerte da altre squadre di C Gold dimostrando dunque il suo attaccamento alla società e ai colori rosso-neri. Le sue parole lascerò Lanciano solo in caso di una importante chiamata dalla Serie A.